Benvenuti in questo nuovo video! Oggi andremo a visitare e commentare Magnolia Promenade. Ho pensato di fare questa nuova tipologia di video perché potrebbe essere utile per avere una visione più completa delle espansioni. Così se qualcuno vuole comprare un'espansione ha anche la possibilità di vedere lo scenario. Quindi andremo a vedere gli scenari, andremo a vedere tutti i lotti, le case. Piccolo spoiler, in alcuni scenari ci sono degli errori. Se anche voi trovate degli errori in giro per The Sims, mi raccomando scrivetemelo nei commenti così li andiamo a vedere insieme. Magnolia Promenade è lo scenario del pack al lavoro e qui ci dice Un mondo in cui uno scenario splendido incontra la vita metropolitana ti dà il benvenuto. Magnolia Promenade offre viste fantastiche e un'esperienza commerciale ai massimi livelli per clienti e imprenditori. Infatti questo è uno scenario prettamente commerciale. E anche se è uno scenario dove si fa shopping, è quello che mi piace meno di tutti. Quindi ho detto lo faccio per primo così me lo levo dalle scatole. Ci sono solo quattro lotti, di cui tre sono occupati da negozi. Ma nulla ci vieta di abbattere tutto e creare comunque dei lotti residenziali. Andiamo a vedere il primo negozio, il sito stradale. Questa è la struttura. Vediamo all'interno. C'è qui l'entrata principale e qui c'è il bancone con la cassa per pagare. Qui abbiamo i vestiti in esposizione. Qui c'è un camerino senza la porta, c'è l'arco. Quindi i sim si cambiano e tutti possono vedere. Qua c'è un altro camerino, sì, con gli spacchi che mi fanno impazzire. Poi qui abbiamo i bagni. Ok, almeno nei bagni c'è la porta. Almeno nei bagni c'è privacy. Qui abbiamo le vetrine che si vedono dall'esterno, vedete? Da quest'altro lato invece abbiamo l'esposizione dei mobili. Ah, qui ci sono anche i profumi. Quindi potete comprare anche gli arredi. Altra vetrina. Poi sopra esternamente c'è un balconcino ma non si può accedere. C'è anche il comignolo del camino ma non c'è un camino, quindi è solo per abbellire il lotto. Il secondo lotto è negozio di abbigliamento JF&S. Andiamo a vedere. Questa struttura mi piace molto di più. È sicuramente più dettagliata dell'altra. Anche qui abbiamo il comignolo ma non c'è un camino. Però è carina comunque, è abbastanza dettagliata. Soprattutto questa parte frontale. Il piano terra. Allora abbiamo qui tutta l'esposizione dei vestiti. Ed è carinissimo che hanno fatto qui tipo i vestiti tutti femminili. Quindi c'è la zona femminile e di qua c'è la zona maschile. Mi fa impazzire sta cosa. Infatti secondo me questo negozio è più bello dell'altro. È più dettagliato. È fatto sicuramente meglio. Poi abbiamo comunque la possibilità di comprare anche dei profumi, delle lozioni per il corpo, le candele. Di qua altra esposizione di vestiti, anche di qua altri profumi. Poi qui abbiamo un bagnetto. Qua c'è un camerino, sempre con l'arco. Però questa volta almeno c'è questo, non mi ricordo come si chiama, questo para qualcosa. Almeno ha un senso. Quindi uno si mette qui, si cambia. Però io non avrei messo gli archi. Al massimo ci avrei messo comunque una tenda davanti, non lo so. Qua invece abbiamo questa stanza stretta e lunga che non ha un senso. Cioè secondo me dovrebbe essere tipo un magazzino. Però non c'è niente che ci ricorda un magazzino. Cioè è vuota completamente. Andiamo a vedere il piano di sopra. Qui già vediamo qualcosa di strano. Cioè questa ringhiera. Questa. Perché? Io come al solito questa è la domanda che mi faccio. È stato fatto apposta? Se la son scordata? Non lo capisco. Comunque c'è questa ringhiera che per me non ha senso e non ci dovrebbe essere. Perché è una ringhiera volante. Vabbè, andiamo avanti. Il piano superiore, anche qui ci sono altri vestiti in esposizione. Lozioni per il corpo. E qui è possibile accedere al balconcino. Quindi almeno è funzionale. Tutto ha un senso. Questa è bella comunque. Come struttura è proprio carina. Emporio di Paddywalk. Emporio di Paddywalk. La pronuncia corretta è Paddywalk. Anche questa struttura mi piace un sacco. È comunque abbastanza dettagliata. Soprattutto la parte frontale con questa finestra fatta così. Queste finestre, queste vetrine fatte così. Secondo me sono un sacco carine. Poi mi piace anche l'idea di mettere i tavolini con gli scacchi. Con gli ombrelloni. È carino, mi piace. Andiamo a vedere il pian terreno. Qua c'è l'entrata principale e anche qui abbiamo il bancone con la cassa. E poi mi piace un sacco perché c'è di tutto. Questo è il classico negozio dove potete trovare un sacco di cianfrusaglie che non servono a niente. E costa un euro, costa due euro e poi usciamo con una spesa da cento euro di roba. E non abbiamo comprato niente di utile. Però mi piace comunque come è fatto. Ci sono tutte le statuette anche, le chitarre. Qui abbiamo il bagnetto, poi all'esterno ci sono le scale che portano qui su. Qui c'è un altro ombrellone e qui abbiamo un magazzino. Ma questa volta ha un senso questo magazzino perché almeno ci sono delle scatole, ci sono delle mensole. Quindi un'idea di magazzino ce la dà. Anche di qua il tre mensole e qui c'è un frigorifero con le medicine. Quindi c'è anche, come si dice, come si chiama? L'infermeria. Questo era il terzo e ultimo lotto. Poi c'è questo. Potete anche buildare case. Basta cambiare qui la tipologia di lotto. E c'è la possibilità di mettere tutti gli altri tipi di lotto. Come ho fatto io. Andiamo invece a vedere un pochino lo scenario com'è. Questa è Magnolia Promenade. E' carino comunque lo scenario. Oddio, ora mi viene da vomitare. E' carino con questo femiciatolo che passa così. E' bello. Qua c'è anche un parchetto. Con i bagni. Qua altri tavolini. E' bello. E' fatto bene. Peccato che però non è esplorabile. Cioè finisce qui. E' proprio una zona commerciale e basta. Però è tanto carina. E questa era Magnolia Promenade. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. E fatemi sapere se avete trovato in giro per il mondo sim qualche errore. Io quello della ringhiera lo reputo un errore. Perché io non l'avrei mai fatto. E mi sembra assurdo mettere una ringhiera lì volante che non ha senso. Quindi scrivetemi nei commenti se anche voi avete visto qualche errore simile. Un bacione ciccione a tutti e al prossimo video.